Ciao, come stai? Buon ramadan! Buon ramadan a tutti e anche a C, perché adesso devi cambiare il telefono. Con chi parli? Parli con C, ci fai un... C, ci fai lavorare a un posto di smarito. Ho capito, che hai perso? Io parli con C, ci fai lavorare a un posto di smarito. Io parli con C per cercare il mio bagaglio, io smarito al treno. Va bene? Ok, è tardi per chiamarvi, però. Prendi il tuo telefono. Eh, sto facendo la diretta. No, no, così, una cosa. Ah, ok. Ho preso un altro. Sì, sì. Ci sono le persone che lavorano all'ufficio di smarito al bagaglio, va bene? Ah, ok. Facciamo una recitazione? Sì, sì. Ok. Pronto? Pronto? Mi dica. Io sono un cittadino italiano, smarito il mio bagaglio al treno. Ah, di quali città e quando è successo? La città che io, io, io farei la linea, Firenze, Roma. Ok. E quando è accaduto? Cosa dici? Quando è accaduto? Quando è successo? Quando ha smarrito il bagaglio? Io farei il bagaglio sopra la mia testa. Ok. Ma il giorno, quanto tempo fa? Ieri, ieri alle nove. Ieri alle nove, ok. Aspetti che sento il mio collega? Un secondo. Ma aspetta, racconti il mio bagaglio come. Ah, è giusto. Quanto pesava il suo bagaglio? Il mio bagaglio è un sacco. Un sacco? Ok. Poi? Un sacco con una corda. Trovare una corda al sacco. Ok, con una corda. Sì. Anche un altro sacco grande. Quindi due bagagli, non uno. Due? Ok, segna subito, un secondo. Anche un bicicletta. E una bicicletta. Quindi due bagagli e una bicicletta. E come l'ha smarrita? Cioè, nel senso, come ha fatto a perdere queste tre cose? Non ho capito, mi scusi. Non ho capito, mi scusi. Lo sacco di me. Lo sacco di me. Tangolare. Era rittangolare? Sì. Leggero. Ok. E cicci di flori. Flori al sacco. Ok. Ok, ok. E lei, quando ha perso il bagaglio, ha subito fatto, appunto, una richiesta per denunciare la scomparsa? No, ieri smarrito la mia pagaglia. E oggi, io aspetto un telefono all'ufficio di smarrito, ma non chiamami. Io prendo il mio telefono e chiamaci. Ah, chiami me. Ok. Ok, riferisco subito ai miei colleghi. Adesso vediamo cosa possiamo fare. Va bene, va bene. Ok. Intanto... Recitiamo bene, comunque. Sì, sì. Io sono italiano, vero. No, nel senso, recitiamo bene. Cosa dici? Recitiamo bene. Siamo dei bravi attori. Siamo un bravo attore. Sì, sì. Io molto bravo. Ok. Allora, mi hanno riferito che ormai è mezzanotte e venti, quindi è tardi per chiamare per i bagagli smarriti. Ma la bicicletta trova? Allora, ascolti. Deve richiamare lunedì alle nove, appena riaprirà l'ufficio. Perché ora è mezzanotte. No, 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 no. No, sono arrabbiato. Perché lunedì? Io voglio girare questo weekend. Lo so, lo so. Mi scusi un secondo, però oggi è sabato sera, mi capisce? Ma io... È mezzanotte, quindi gli uffici sono chiusi. Io non so cosa dirle. Io voglio, io voglio fare la vacanza al sabato e domenica. L'unidì io lavoro. Sì, ma sabato e domenica, in quarantena soprattutto, gli uffici sono chiusi, mi capisce signore? Ma adesso cosa fai? Io voglio la bicicletta per salire il monto. Allora la bicicletta te la presto io, ok? Ti spedisco la mia. La tua bicicletta? Sì, io ti spedisco la mia bicicletta, poi per i bagagli richiama direttamente lunedì prossimo, ok? Ma al bagaglio c'è il casco di bicicletta lì. Ti presto anche il casco, le ginocchiere e quello per i gomiti, va bene signore? E come, come, come fate la carta di credito? La carta di credito è anche smarrito? E anche il mio telefono, questo è il mio telefono del mio amico. Però per il telefono non va bene perché un telefono ci sta facendo la diretta e uno sta chiamando, quindi quanti telefoni ha lei? Ma no, 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 io non ho la stessa cosa adesso. Quanti telefoni ha lei? Il telefono del mio fratello. Ah ok, è quello della diretta? Il mio amico. Ah, quindi lei non ha più il telefono. Che iPhone era? Non ha più il telefono. Adesso non c'è soldi. Io non ho mangiato niente oggi con la mia calione. Che telefono era? Mi scusi che sto segnando tutto. iPhone 11. L'ultimo. iPhone 11. L'ultimo iPhone. L'ultimo, ok. Nero. 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 Ok. Ha bloccato la simma? Subhanallah. C'è il zin. 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 Dio. C'è il zin. Pronto? Ha bloccato la simma signore? No. Eh, la sim. Io farei... Fare... 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 Fare sonare. Fare sonare il mio telefono. Il mio telefono... Si si, però deve chiamare per bloccare la simma. Capisce? Deve bloccare la simma. No, no, c'è un lavoro perché non c'è tempo. Ok, un secondo blocco subito la sim, ok? Io sono, se io adesso parlare fa freddo. È giusto, è colpa mia, tutta colpa mia. Allora, il telefono era intestato a? Dimmi? Il telefono era intestato a? A lei? Mi ripete il suo nome e cognome? Usama, Copenhagen. Usama, Copenhagen. Come la città? La città di me? Dove è nata? No, Copenhagen, come la città. Come la città, ma io nato al Gavla. Ok, lei dove è nato? Nato al Gavla. Marocco? Sì, il Gavla, Marocco, il Gavla, esattamente. Ok, e ora dove si trova? Adesso sono a Roma. Lei è a Roma in questo momento? Sì, sì. Ok. Adesso per i camminci, per i camminci voglio il mio pagaglio subito. Subito? Ok. Perché non c'è tempo. Ok, ok, ok. Sto sentendo un attimo i colleghi che sto chiamando in qualche modo. Ma quando ci hanno trovato il pagaglio, viene a casa mia e io non c'è problema. Io non voglio girare. Va bene, va bene, va bene, signore. Ok. Allora, mi ripetono che prima di lunedì non possiamo fare nulla. Cosa posso fare io ora? Ho appuntato tutto quello che mi ha elencato. Ascoltami, io vorrei fare un reclamamento. Lei ha fatto un reclamo, giusto? Ha fatto un reclamo. Perché io avrò un avvocato. Contro di me? Io la sto aiutando. Io ho avvocato di me perché io avrò un comparativo di nuovo. Il mio bagaglio, subito, oggi, non viene il mio bagaglio, fare un reclamamento. Mi scusi, signore, ma signore, scusi, perché non ha chiamato direttamente ieri, non appena aveva smarrito il bagaglio, ha chiamato soltanto ora? Perché ieri non ho trovato soldi, non ho trovato telefoni. Poteva chiedere il telefono a qualche signore in giro. Ma non fare la fidanzata. Ma che ci vuole non fare la fidanzata? Ok, vado a piedi lontano. Ah, ok. Ok. Quando, 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 quando trovate a casa, io sono stanco. O sono stanco dormito oggi. Hai ragione, hai ragione. Guardi, se vuole chiamiamo direttamente anche la polizia, così ci può aiutare. Pronto, polizia? Pronto, mi dica. Allora, la mia collega... Cambiare il telefono. Ah, cambio telefono? Ok. Pronto? Con chi faccio? Pronto, polizia. Pronto, mi dica. Io voglio fare un rec... Cosa dici? Pronto, mi dica, signore. Io voglio fare un reclamamento per... Un reclamo, sì. Un'azienda di trasporto. Ok. Perché io smarretto il mio bagaglio, ma non ce ne sono per mandare il mio bagaglio. Io sono occupato. Ok, quindi questa azienda non ha accettato il suo reclamo per restituire o cercare il bagaglio, giusto? Mark, non fa niente, io non fa niente questa azienda. Scrivo subito, un secondo. Io cambiare questa azienda. Ok. Come si chiama il nome di questa azienda? Qual è, signore? Si chiama Secondo Treno. Secondo Treno. Ok, mi diceva la mia collega è stato smarito a Roma, il bagaglio? Il bagaglio a Roma a Firenze. Non lo so perché io conci... Tratta Roma a Firenze. Perché io mentre salirei il treno, io dormito. Ok, quindi le è stato rubato due sacchette, una bicicletta e basta. E un telefono, un iPhone 11 Pro. Non mi capisce? No, quando io parlo ci capito. Ok, ho detto. Lei, signore, ha perso due sacchetti, una bicicletta e un iPhone 11 Pro Max, l'ultima generazione. Conferma? Sì, e la carta di credito. E la carta di credito? Ok. Sì. Allora, intanto le posso dire che ho fatto subito denuncia a questa azienda, quindi molto probabilmente l'azienda lunedì chiuderà, perché è stata una cosa completamente ingiusta quella che le hanno fatto, quindi l'azienda in primis è chiusa. Seconda cosa, entro lunedì avrà i suoi due sacchetti, la bicicletta, la carta di credito e il telefono. Glielo posso assicurare io? Sì, va bene. Ok, mi manda il suo indirizzo per poter farle ricapitare tutto questo? La mia adresa? Io sono a Rio, Rio, via 24. Ok. Roma, giusto? Appartamento 10. Ok. 110. Via Roma. Via Roma. Ok. L'appartamento 10. L'appartamento 10. Perfetto. Entro lunedì avrà tutto, signore. Va bene, grazie mille per oltre oggi il servizio. Io voglio fare una domanda perci. Grazie a lei, signore. Cosa? Io voglio fare una domanda perci. Va bene, signore. Ti avrò lo Whatsapp. Cosa? Ti avrò lo Whatsapp. Sono una poliziotta, mi dispiace, non posso darle il mio numero personale. Sto lavorando. Ma dopo il lavoro parliamo. Mi licenzerebbero, capisce, signore. Io non la conosco. Non so se posso fidarmi di lei. Io sono famoso e avrò comparativa di nuovo. Lei è un personaggio famoso? Sì, famoso anche, avrò comparativa di nuovo, ma voglio una ragazza per conoscire bene Roma. Io non conosci bene Roma. Guardi, se vuole faccio richiesta anche per farle arrivare una ragazza che può farle fare una visita alla città. No, no, io voglio fare una spigiatta conci. Con me? Non posso, signore. Sono una poliziotta. Allora, ti giuro. Per favore. Mi arresterebbero, capito? Mi licenzerebbero. Io avrò, io avrò, io avrò un improntamento per creare una macchina per te. Una macchina per il Volkswagen, non il Volkswagen, per il Ferrari, che non c'era l'italiano. Ok. Ma non si può girare? Siamo in quarantena, glielo ricordo, signore. No, no, adesso non, adesso... Per il virus. Io parlerò dopo la quarantena. Ah, dopo la quarantena? Io guido bene e per montare una macchina Lamborghini, ci farei come passeggiata. Ma a me non piace la Lamborghini. Cosa ci piace? Una Fiat, qualcosa di più umile. No, no, Fiat piccola. Io sono alto. Questo è grande problema. Io sono bassa. Anche la Lamborghini è bassa, sai? Io voglio C. Come C? Basta o basta? Come C? Ok. Le troverò una ragazza come me. Basta. Io voglio C. Me proprio. Le trovo una sosia, ok? Come C? Ah, ci sono moresine. C'è il Burissia con l'ordomare in Milano. C'è la nuova a Roma. Ok. Ah, io sono bello. Ah, oggi non potrai vissicci giganti. Come vai? Oggi è sportivo? Ehi. Oggi la caschetta giù di El Sma'il miniani. Dim, dimmi. C'è Hia il Sma'il miniani. Come scusi? Dici, dici. C'è Hia? È troppo difficile. Chia Non ho l'accento capisci Lo direi male Somma Somma Mian Mian Relfla Relfla Somma 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 No Non dimenticate Il Cosa dice Sì signore ancora linea Ancora linea Sì sì c'è la linea Mi devi dire altro Pronto 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 Cambia il telefono Cambia Scusi Usama Copenaghen L'alcella Usama Copenaghen Aspetta E' il primo di parlare Pronto Pronto? Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene, lei insieme come sta? Molto bene, grazie Io avrò un grande problema all'autostrada La mia macchina è aperta, non parte La sua macchina è ferma in autostrada? All'autostrada io sono molto paura perché c'è la sera Non c'è luce Ok, e qual è l'autostrada? L'autostrada fra Firenze e Liguria Ok, ok, ok Allora, è da solo, si trova con qualcuno? No, io sono con la mia calioni Con la sua? La mia calioni, il cani, cani